Ciao, se hai un progetto online o stai pensando di sviluppare un progetto online ti voglio raccontare tre aspetti che secondo me sono importanti per poter iniziare questo progetto con la marcia giusta. Sono tre aspetti che ho imparato nel corso del tempo, nel corso della mia carriera di SEO, quindi di posizionamento per i motori di ricerca e voglio condividerli con te. I tre aspetti sono il tuo prodotto servizio, il traffico e l'ecosistema. Il prodotto è importante perché tu andrai a competere nel mondo di internet con altre aziende, ma magari lo stai già facendo a livello offline questo, comunque ci sono altre aziende che sono già posizionate a livello organico, hanno già una loro presenza online e quindi hanno già imbastito tutto a quella che è la strategia di comunicazione, di pricing, di canali da sfruttare per ottenere, per raggiungere il giusto target. Quindi tutte queste informazioni, se tu stai iniziando, dovrai raccogliere per non iniziare da zero, per non fare tutto quello che gli errori che hanno già fatto magari i tuoi competitor quando sono entrati sul mercato. Quindi posizionarsi vuol dire studiare i competitor, capire che canali sfruttano, capire come li sfruttano, capire che tipo di pricing hanno, come comunicano questo prodotto. Una volta che hai questa panoramica allora puoi pensare di iniziare a imbastire la strategia di traffico e puoi pensare di creare tutti quegli elementi, quei blocchetti come il tuo sito, il tuo blog, il tuo portale e-commerce, tutto quello che ti serve per poter poi vendere il tuo servizio, il prodotto che hai e su cui vuoi basare il tuo progetto. Però prima di far questo devi proprio avere chiaro cosa c'è di fuori. Dopodiché dovrai acquisire del traffico. Il traffico può essere distinto in due grossi insiemi. Il traffico controllato e traffico non controllato. Il traffico controllato è quel traffico che tu paghi e che quindi puoi decidere in qualsiasi momento di fermare o di attivare. Quindi sono delle campagne che hanno del budget e a seconda del budget vanno avanti e tu puoi decidere in qualsiasi momento di fermarle. Il traffico non controllato è tutto quello che deriva dal posizionamento organico. Quindi tutto questo è traffico che non puoi controllare, che non puoi fermare. È un flusso continuo. Il giusto mix delle due tipologie di traffico ti permette di non spendere tanto in campagne pubblicitarie, di crearti una tua posizione, un tuo posizionamento a livello di brand e di comunicazione e ti permette quindi di far crescere la tua community e quindi anche la tua base clienti. Una volta che questo però il traffico da solo non basta. Devi avere un ecosistema che converta questo traffico da potenziale cliente a cliente. Tutti partono con l'ecosistema, ma l'ecosistema è l'ultimo passaggio e quello che ti permette di convertire il potenziale cliente in cliente. Ma se tu non hai fatto gli step precedenti e quindi non acquisisci traffico o non ne acquisisci abbastanza e non sai come comunicare quel prodotto e qual è la caratteristica che ti differenzia da tutti i prodotti che ci sono online, rischi di avere un progetto che in realtà non decollerà mai, rimarrà sempre un passo indietro rispetto ai tuoi competitor, che magari sono anche lì da tanto tempo, hanno più budget di te. Quindi pensare a monte quali sono le tue caratteristiche che ti differenziano dagli altri, capire qual è il traffico su cui puoi investire inizialmente in base anche al tuo budget, a quello che è la tua, le tue finanze di partenza, il tuo business plan e capire quindi su quali blocchetti concentrarti nel tuo ecosistema, questo può fare la differenza e può far sì che il tuo progetto nel tempo cresca in maniera naturale e in maniera costante. Quindi una volta che hai pensato a questi tre elementi, allora solo a quel punto puoi pensare a eventuali integrazioni con altri ecosistemi, perché se hai un portale di e-commerce potresti dire ok io il traffico posso anche intercettarlo, quindi posso farmi conoscere integrandomi con l'ecosistema Amazon o con l'ecosistema eBay se hai un portale e vendi dei prodotti. Quindi l'idea di base è focalizzati bene su questi tre aspetti, cerca di non aver fretta, imbastisci la tua strategia in base al tuo business plan, a quelli che sono le tue finanze, a quello che vuoi raggiungere, a quelli che sono i tuoi obiettivi e poi pensa all'ecosistema. Nei prossimi video magari ti farò vedere qualcosa a livello di traffico, a livello di ecosistema. Io mi occupo sostanzialmente di questi due aspetti, quindi ti farò vedere come nei progetti miei e come è il mio approccio con i progetti dei miei clienti, fanno sì che sviluppare questi due tasselli, questi due blocchetti, fanno sì che il tuo progetto possa andare, possa crescere in maniera costante. Per questo video è tutto, ti ringrazio di avermi seguito e ciao alla prossima!